Musica Ennesima spaccata nella città di Brindisi, la terza in poco tempo, questa volta è malvita. I venti hanno preso di mira l'ottica savarese in pieno centro cittadino, l'appello della titolare. A prescindere dal singolo evento delittuoso, il comune di Brindisi deve fare i conti con il problema relativo alla sicurezza. Nei giorni scorsi, Confeser Centi è intervenuta sull'argomento. Un anziano è stato aggredito nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. La vittima è un brindisino, l'aggressore è un cittadino nigeriano. Rete e buone prassi tra istituzioni, organizzazioni e cittadini. Settima conferenza internazionale dei borghi del Mediterraneo a Cisternino. L'evento si concluderà domani con una serie di iniziative nel cuore della Valle d'Itria. Impegno esterno per il Brindisi che domani sarà ospite del Nardò. Per il tecnico Massimiliano Olivieri la partita sarà una prova di maturità. Benvenuti e ben ritrovati a questa edizione di Cento Notizie Brindisi. Ennesima spaccata nel comune capoluogo, la terza in poco tempo. Questa volta i malviventi hanno preso di mira l'ottica savarese in pieno centro cittadino. L'appello della titolare raccolto da Anna Saponaro. Questa volta è toccato all'ottica savarese in pieno centro a Brindisi. Una spaccata all'alba alle 4.20 circa. A bordo di uno scooter, i gnoti hanno provato a sfondare la porta d'ingresso. Sono riusciti a scardinarla, a rimuoverla, a introdursi nell'esercizio commerciale che da anni vende solo pezzi forgiati a mano e numerati, brand internazionali di notevole spessore artistico, occhiali esposti al MoMA di New York. I balordi hanno svuotato parte degli espositori, quelli in prossimità dell'ingresso, poi sono fuggiti a causa dell'entrata in funzione dell'allarme collegata ad un istituto di vigilanza. Un danno ingente, ma non ancora quantificato. I pezzi che sono stati portati via sono stati esposti al MoMA di New York, sono stati recensiti dal Guggenheim, sono stati forgiati da architetti, da artigiani. Io ora dico, ma loro lo sanno che hanno preso, cioè è increscioso, anche perché non saprei sinceramente come, cioè a chi possano darli, se non restituirli o a me o ai musei, quindi non lo so. Una perdita economica per i titolari dello storico punto vendita è d'immagine per una città che anche sotto il profilo commerciale, nonostante gli sforzi degli esercenti e delle associazioni di categoria, fatica a trovare la via della normalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, che potranno contare per ricostruire più dettagliatamente la vicenda e per tentare di risalire responsabili, sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano su Corso Umberto I. Nonostante la delusione e l'amarezza per l'accaduto, Stefania Savarese, titolare insieme al fratello Toto del punto vendita, ha trovato la forza di parlare e di spiegare quanto episodi di questo tipo danneggino non il singolo, non chi riceve personalmente l'attacco delinquenziale, ma tutta la comunità. L'immagine di una città che si sta degradando quotidianamente, dove sta quasi un po' riprendendo quel timore degli anni 90 che noi avremmo voluto rimuovere, però è la nostra città, è il cuore pulsante, il nostro, e qui dobbiamo vivere. E allora, forza, andiamo avanti con la coscienza che Brindisi è comunque una perla e speriamo che possa cambiare. E a prescindere dal singolo evento delittuoso, il comune di Brindisi deve fare conti con il problema relativo alla sicurezza. Nei giorni scorsi, i confesercenti, intervenuta sull'argomento, sentiamo il presidente Antonio D'Amore che ha incontrato il questore. Ancora un atto delinquenziale nel comune capoluogo a danno dei commercianti. Questa volta è toccata all'ottica savarese, ma in poco tempo era accaduto anche a Portico 12 ed altri esercizi commerciali della comune capoluogo. Confesercenti nei giorni scorsi ha voluto incontrare il questore della provincia di Brindisi, il dottora Ferdinando Rossi, per fare il punto della situazione che è ovviamente da attenzionare. Bisogna porre rimedio subito, perché non basta la buona volontà dei commercianti, evidentemente. Non basta la buona volontà dei commercianti, ci vuole l'impegno sicuramente di tutti. Ci vuole una riscoperta, come abbiamo detto con il questore Rossi, del senso civico e di appartenenza di questa comunità, che in qualche modo un pochettino si è perso in questi anni, andrebbe riscoperto. L'altro giorno, oltre al questore, abbiamo anche incontrato il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, con il quale abbiamo anche condiviso un percorso più istituzionale che passa attraverso la prefettura, proprio per cercare di fare fronte comune e argine a questa situazione, che comunque vede i commercianti sempre in prima linea. Noi siamo in trincea, noi siamo i soldati nella trincea che in qualche modo sono sotto il fuoco incrociato di amici e nemici. Quindi l'obiettivo è non solo cercare di garantire maggiore sicurezza dal punto di vista della criminalità, e non dico organizzata, anche della criminalità comune, ma bisogna anche riscoprire quello che è l'attaccamento da parte dell'istituzione, una categoria che in qualche modo garantisce servizio all'utenza, garantisce accoglienza turistica, garantisce una città viva e vitale e che in qualche modo va sostenuta in quest'azione di riqualificazione sociale. Presidente, dopo il primo incontro, la luce di quello che è accaduto questa notte ha già contattato il questore, perché bisogna intervenire concretamente con le azioni. Non l'abbiamo ancora sentito, anche perché comunque con il questore ci eravamo lasciati testimoniando la nostra assoluta fiducia a quello che è l'azione di contrasto e prevenzione da parte della questura e della polizia in generale. Siamo sicuri che stanno lavorando e stanno lavorando bene e quello che è successo anche a Portico 12 la settimana scorsa è la testimonianza, lì dove a distanza di poche ore avevano arrestato i responsabili e ha recuperato l'area furtiva. Quindi siamo assolutamente fiduciosi che non ci sia bisogno di sollecitare ulteriormente il signor questore. E sull'argomento interviene anche ConfCommercio. Ancora una volta i commercianti di Brindisi finiscono nel mirino della criminalità organizzata, l'ennesimo sfregio compiuto nei confronti di chi con coraggio continua a svolgere la propria attività commerciale in un centro urbano colpito da un progressivo fenomeno di desertificazione. Episodi come quello accaduto poche ore fa fanno crescere la sensazione di abbandono nei confronti di chi si sottopone a sacrifici impensabili pur di non cedere alla tentazione dei centri commerciali. Il nostro pertanto l'ennesimo appello accorato al prefetto di Brindisi ai responsabili delle forze dell'ordine e al sindaco della città affinché si crei un argine contro l'attacco della malavita. Una maggiore presenza di uomini e mezzi di polizia, carabinieri e guardie di finanza dovrà aggiungersi all'effettiva attivazione del sistema di videosorveglianza. Non è possibile che gli impegni assunti in più occasioni continuino a rimanere sulla carta mentre altre attività commerciali chiudono i battenti in preda alla crisi economica e alla paura di furti e rapine. In quest'ottica la Confcommercio della provincia di Brindisi è pronta a svolgere sino in fondo il proprio ruolo al fianco delle istituzioni e a tutela dei nostri commercianti. Ma non è più il tempo delle parole. Adesso occorrono i fatti. Queste le parole di Confcommercio. Brindisi. Parliamo ancora di cronaca ma cambiamo argomento. Un anziano è stato aggredito nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio. La vittima è un brindisino. L'aggressore è invece un cittadino nigeriano. Strattona un anziano che li nega le lemosina. Brutta avventura per un pensionato brindisino nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. L'uomo di 72 anni è stato avvicinato mentre si recava verso la propria autovettura da un cittadino africano che gli ha chiesto le lemosina. L'extracomunitario avrebbe reagito male al suo rifiuto afferrando l'anziano per un braccio e procurandogli un lieve graffio alla mano. L'uomo è riuscito ad allontanarsi e raggiungere il proprio mezzo e a contattare i carabinieri che erano nei pressi del centro commerciale per un servizio perlustrativo. I militari su indicazione della vittima hanno raggiunto un gruppo di extracomunitari che si trovava nell'area di parcheggio. Alla vista dei carabinieri gli immigrati si sono dati alla fuga allontanandosi in diverse direzioni. Dopo essere stati inseguiti sono stati fermati due cittadini stranieri. Durante le prime operazioni di identificazione uno dei due per sfuggire al controllo ha sferrato una gomitata a uno dei militari che è riuscito ad evitare il colpo. I fermati sono entrambi irregolari sul territorio nazionale per motivi umanitari. Obasuyo, regbe 6,3 ventunenne nigeriano residente a Ori è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari mentre un suo connazionale 39enne senza fissa di mora è stato denunciato per tentata estorsione. E ancora cronaca ieri un carabiniere fuori servizio ha sventato una rapina nell'ufficio postale della commenda del quartiere commenda. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Carabiniere libero dal servizio sventa rapina all'ufficio postale l'episodio è avvenuto a Brindisi poco dopo le 18 di ieri un ragazzo di circa 20 anni con accento dell'est europeo armato di coltello e con volto non travisato è entrato nell'ufficio postale di Viale Commenda facendosi consegnare i pochi soldi che erano in cassa. All'interno al momento dell'irruzione era presente un carabiniere libero dal servizio e disarmato il militare per evitare conseguenze ai presenti ha atteso che il rapinatore uscisse dall'ufficio l'ha inseguito e dopo averlo raggiunto l'ha affrontato a mani nude ingaggiando con lui una colluttazione il malfattore dopo aver mollato la borsa contenente il denaro è fuggito a piedi lasciando per terra la bicicletta con la quale aveva raggiunto il luogo l'intera refurtiva dunque è stata recuperata attualmente si cerca il malfattore sul posto si è recato il personale dei carabinieri della compagnia di Brindisi parliamo ora di politica il centro-sinistra al governo della città continua a nascondersi sindaco, assessori e consiglieri si tagliano gli stipendi duro attacco del consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Quarta sentiamo Anna Saponaro davvero incredibile il comportamento della maggioranza su cui si regge l'esecutivo del sindaco Rossi si tratta di un piccolo esercito composto dal primo cittadino dagli assessori da 20 consiglieri comunali da amministratori di società partecipate e dai componenti dello staff del sindaco l'attacco del consigliere di Forza Italia Gianluca Quarta all'amministrazione comunale a fronte di una situazione gravissima determinata dal predissesto finanziario non hanno ritenuto di dover mettere mano al portafogli rinunciando ad una parte dei propri emolumenti attraverso un atto volontario in calza ancora Quarta una vera e propria vergogna l'unica cosa che sono stati capaci di fare qual è stata quella di accusare le opposizioni un atteggiamento poerile che dimostra sino in fondo lo stato di profonda difficoltà in cui si barcamena Rossi con i suoi fedelissimi in attesa dei conti relativi al dissesto continuano a spendere e spandere risorse pubbliche lo stesso discorso vale per i cosiddetti costi della politica accettiamo la sfida si metta sul tavolo il totale degli emolumenti percepiti dalla maggioranza e quello dell'opposizione si facciano le proporzioni numeriche sarà la migliore risposta alle squallide insinuazioni che qualche politico esperto continua a fare e si tirano fuori anche i rimborsi che il comune paga alle aziende per permettere ai consiglieri della maggioranza di essere presenti in commissione dopodiché proprio il sindaco Rossi potrà farsi un esame di coscienza e tornare sui suoi passi riducendosi lo stipendio e riducendo i costi del suo staff aprirebbe finalmente conclude Gianluca Quarta uno spiraglio di coerenza fra le cose che aveva promesso in campagna elettorale e che poi puntualmente non ha mantenuto Rete e buone prassi tra istituzioni e organizzazioni e cittadini settima conferenza internazionale dei borghi del Mediterraneo a Cisternino l'evento si concluderà domani con una serie di iniziative nel cuore della Valle d'Itria aperta ufficialmente a Cisternino la settima conferenza internazionale dei borghi del Mediterraneo in programma nel cuore della Valle d'Itria fino al 20 ottobre costruire in bellezza per garantire i borghi pugliesi del sud Italia e del Mediterraneo la rivitalizzazione e lo sviluppo indispensabile a mettere a valore un imitabile e inestimabile patrimonio sociale culturale storico architettonico e ambientale questo è il tema della conferenza organizzata dal comune di Cisternino dall'associazione borghi più belli d'Italia e dal Politecnico di Bari con il sostegno della regione Puglia incontri seminari conferenze forum workshop visite sul campo laboratori eventi e mostre un'agenda fitta programmata dagli enti organizzatori che mira a promuovere la costruzione di reti e la condivisione di buone prassi tra istituzioni organizzazioni e cittadini la conferenza è un contenitore di tanti eventi che portano a stimolare tutti i sensi per questo abbiamo voluto delle mostre dei seminari delle tavole rotonde è un convegno che abbiamo realizzato in collaborazione con il club dei borghi più belli d'italia a livello nazionale ma anche con il Politecnico di Bari che in qualche modo è il nostro riferimento tecnico accademico per cui siamo davvero contenti del fatto che attraverso questo calendario fittissimo di incontri a tutto campo riusciremo sicuramente a stimolare l'interesse di chiunque potrà venire a seguire direttamente i lavori o potrà vederli da qui a quando vorrà sul sito borghidelmediterraneo.com Tra gli appuntamenti in programma la presentazione della pubblicazione Borghi Fragili volume che raccoglie i migliori contributi delle due edizioni precedenti della conferenza realizzato a cura di Mario Saponaro assessore allo sviluppo economico del comune di Cisternino e coordinatore della conferenza A differenza di quanto il titolo potrebbe lasciare immaginare la condizione di fragilità viene interpretata in senso assolutamente positivo i borghi fragili si riferiscono soprattutto ai borghi molto piccoli a rischio di spopolamento di abbandono per varie ragioni però la loro condizione di fragilità diventa occasione per risvegliare una forza endogena interna che rende consapevoli appunto del proprio valore culturale architettonico e così via delle proprie potenzialità delle proprie identità che diventano il motore per promuovere nuove occasioni di sviluppo locale ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi per la seconda parte di 100 notizie a tra poco seconda parte di 100 notizie diffondere la cultura della donazione di midollo e sangue con questo obiettivo anche a brindisi in piazza Vittoria giornata di sensibilizzazione e informazione con la presenza di un'emoteca e la possibilità di effettuare la tipizzazione per la donazione del midollo osseo non lasciare spenta la tua luce più luce accese ci sono più vite si possono salvare in piazza Vittoria a Brindisi iniziativa che è stata organizzata dall'Admo associazione donatori midollo osseo di Brindisi in collaborazione con l'Avis sull'argomento interviene Ferdinando Dragone per spiegarci che sostanzialmente si tratta di una iniziativa volta all'informazione e alla tipizzazione di possibili donatori in questo caso dell'Admo esattamente oggi è la giornata denominata MECIT NOW che è una giornata a livello nazionale che viene organizzata quindi su tutto il territorio italiano in un determinato periodo dell'anno oggi è la volta di piazza della Vittoria a Brindisi dalle ore 10 alle ore 20 è possibile ricevere informazioni e tipizzarsi per diventare potenziali donatori di cellule staminali del midollo osseo per poterlo fare bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni essere ovviamente in buona salute Luca Scanferlato volontario dell'Admo Associazione Donatori Midollo Osseo di Brindisi intanto cosa significa tipizzare? Tipizzare significa diventare un potenziale donatore si fa un piccolo prelio di sangue un tampone boccale questi campioni vanno a un laboratorio specifico al Policlinico a Bari se il potenziale donatore risulta etoneo viene iscritto in un registro internazionale perché internazionale? Perché la compatibilità è circa di 1 a 100 mila e molto spesso anche un parente stretto quale può essere un fratello o un genitore può essere donatore fino al 50% compatibile fino al 50% mentre invece che ne so un cinese un australiano un tedesco al 100% succede quindi è importante che ci siano più tipizzati possibili più donatori possibili perché così aumenta anche la possibilità per i malati sono quelli che aspettano il vostro midollo in realtà poi il midollo sono delle cellule staminali che stanno nel sangue ed è l'uno e voi potreste essere l'unica medicina e noi cerchiamo di fare informazione proprio per cercare questi donatori siamo allo sport impegno esterno per il Brindisi che domani sarà ospite del Nardò vediamo la presentazione del match di Fabrizio Caglianello sarà una gara difficile probabilmente la più delicata dall'inizio della stagione l'ha presentata così il tecnico del Brindisi Massimiliano Olivieri questa sfida molto attesa contro il Nardò in programma domani allo stadio Giovanni Paolo II una partita delicata perché la formazione Biancazzurra la gioca ancora una volta senza tasselli importanti saranno assenti infatti i due attaccanti le due prime punte Granado ancora fermo ai box per un infortunio e Montaldi che dovrà scontare il secondo giorno la seconda giornata di squalifica ma saranno ancora assenti anche il centrocampista Lombardo e l'altro attaccante Under Maglie anche loro alle prese con guai fisici rientrerà invece il terzino Boccadamo che ha scontato la sua giornata di squalifica non dovrebbero esserci grosse variazioni rispetto alla formazione che la scorsa settimana ha giocato e ben figurato contro il Foggia ballottaggio a centrocampo tra Masocco e Zappacosta con quest'ultimo che domenica scorsa era subentrato proprio a Masocco che parte però questa volta in pole position per quanto concerne la difesa è probabile un impiego dal primo minuto di Boccadamo sulla corsia di sinistra una gara delicata perché la formazione Biancazzura affronta un Nardò particolarmente agguerrito un Nardò che praticamente è all'ultima spiaggia la formazione di Antonio Foglia Manzillo fino ad oggi ha vinto una sola partita quella in casa contro il Cerignola ed è reduce dalla sconfitta in rimonta contro il Grumentum c'è tra l'altro anche particolare tensione in casa Neretina come dimostra il fatto che il club la società ha deciso di non autorizzare le interviste infrasettimanali ai propri tesserati è stata annullata addirittura la conferenza stampa di presentazione della partita del tecnico Foglia Manzillo il Brindisi vuole vincere questa per noi ha detto il tecnico bianco-azzurro Massimiliano Olivieri è davvero una prova del 9 e sentiamo allora le parole del tecnico Massimiliano Olivieri nella conferenza stampa pre-gara che ha commentato la partita sarà per noi una prova di maturità è un crocevia importante è un crocevia importante che ci deve far capire di che pasta è fatto il Brindisi perché fino adesso fuori casa abbiamo vinto a Taranto e poi abbiamo perso a Casarano e abbiamo perso contro l'Andria e quindi in questo momento noi siamo deficitari fuori casa quindi la finale fuori casa ci manca e per questo affronteremo una squadra veramente agguerrita perché lì ha tre punti anche se non merita la classifica che ha è proprio per questo che la dobbiamo rispettare e per noi diventa una partita importantissima per far capire a noi chi siamo chi è il Brindisi in questo momento e cosa possiamo fare sì è un rettangolo di gioco pessimo però ovviamente di questo non dobbiamo fare un alibi anche perché giocheranno anche loro su quel campo e quindi noi dobbiamo toglierci dalla testa il fatto dell'alibi del campo si giocherà là e quindi noi dobbiamo accettare questo campo e dobbiamo mettere in campo tanta cattiveria la voglia di vincere la voglia di dimostrare noi stessi perché comunque fuori casa abbiamo fatto delle buone prestazioni anche togliendo ovviamente quella di Casarano e quindi noi dobbiamo essere cinici nel portare a casa i tre punti che sono fondamentali e ripeto noi affronteremo una squadra decisa a lottare fino alla morte e io lo so perché per esperienza passata incontrare queste squadre è peggio che incontrare una di alta classifica siamo in chiusura è tutto per questa edizione di 100 notizie e brindisi la parte tecnica è stata curata da Alessandro Colavito un cordiale saluto e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi grazie a tutti